Io sono in compagnia di Ninetto Davoli, salve! Ciao, ciao! Che meraviglia! Ma che splendore, ma sarà meraviglia davvero! Allora, questa giornata con mio papà, quindi il primo film, praticamente il primo Red Carpet che c'è stato oggi? Sì, il primo, devo dire è stato il primo, come è stato il primo festival che è stato fatto qui a Roma, cioè nove anni fa, io sono venuto qui nove anni fa, che era proprio il festival di Roma, il primo, il primo, che sono venuto qui con uno su due, quello con Fabio Volo, e non solo è stato il primo film, ma sono stato anche premiato come miglioratore, miglioratore come primo premiato! Fincetto! Insomma, ormai dico ragazzi, stanno a livelli proprio grandi! E poi stiamo parlando di una persona che, lei ha lavorato con i più grandi, un ricordo ad esempio di Pasolini, di Totò? Beh, Pasolini non c'è commento, perché con Pasolini abbiamo fatto le cose più belle, abbiamo fatto le cose più belle, e aver lavorato con i grandi come Totò, insomma, secondo me è stata una partenza meravigliosa, un inizio di questo lavoro, diciamo la carriera, come vuoi tu, insomma è stato un inizio meraviglioso, bello, con Pasolini, con Totò, e poi non ci diamo anche gli altri attori, perché sennò... Ma come è cambiato il cinema di... quando lei ha iniziato col cinema di oggi? Cioè è una grossa differenza? Beh, beh, la differenza è enorme, la differenza è enorme, e oggi fanno un altro cinema, è un cinema più commerciale, è un film più... diciamo come dire, è un film più attuale, sono film attuali, che diciamo c'è la differenza di quei film che si facevano una volta, cioè una volta si faceva un certo tipo di cinema, neorealismo, e adesso diciamo un po' un cinema un po' più violento, un po' più legato al sistema oggi, ed è più cattivo, più duro, e una volta si faceva un altro cinema un po' più poetico, più... più realistico, non lo so, è diverso, è diverso, però voglio dire, il cinema che fanno oggi è il cinema legato a quello che è oggi, insomma. Però chissà che questa festa non riporti poi un tipo di cinema popolare, diciamo così. E questo lo speriamo tanto, io veramente lo spero, che se ritorni a fare un certo tipo di cinema, però devo dire che dubito un po', dubito un po'. E con queste parole noi ci salutiamo, la lasciamo andare... Ciao amici di Fannui, ciao a tutti, ciao! Grazie mille!